Certo che siamo preoccupate, io sono nonna, ma chi è mamma sì, penso di sì, brutta. Quando sono in gruppo si sentono più forti e magari prenoia, fanno queste cavolate magari. C'è preoccupazione a Venezia per la recrudescenza di episodi violenti di cui si stanno rendendo protagonisti i gruppi di adolescenti. È un segnale di debolezza che però preoccupa perché tende a cristallizzare comportamenti che possono protrarsi ben oltre l'età dell'adolescenza, dice il neuropsicologo Michele Canilla. Normalmente c'è una grossa assenza dell'ambito familiare alle spalle e una libertà che deriva da un'abitudine educativa di questi ragazzi, per cui, come dire, si aggregano autonomamente in atti violenti. Si tratta, spiega Canilla, di giovani che non hanno mai acquisito né un limite né un'autonomia che li permetta di vivere nel rispetto degli altri. Spesso è difficile coinvolgere le famiglie perché a loro volta, come dire, mancano di quei valori o di disponibilità proprio ad occuparsene e spesso sono ragazzi che al posto di arrivare immediatamente a un servizio di cura arrivano alla giustizia o alle forze dell'ordine. Fra la gente prevale lo sconcerto perché all'apparenza sembra che il fenomeno sia fuori controllo. C'è troppa libertà, c'è troppo di tutto e di conseguenza è degenerato la cosa, insomma, la libertà che c'è adesso e poi i soldi. Purtroppo che avrei più agenti di notte, di giorno, poi strada perché sti fioi ormai si incontravi in poche parole. Questa qua saremmo sempre per secondo me. Questa cosa vi fa paura? Diciamo di sì perché comunque non conoscendoli, non sapendo chi sono, magari può succedere anche a te. Quattro anni fa ha picchiato uno all'accademia, un signore di 75 anni, ha detto ti ha una sigaretta, boom. Sono fenomeni che periodicamente si ripetono. Purtroppo probabilmente le famiglie non controllano bene. Secondo me bisogna riprenderli e fargli capire, magari col riformatorio, non lo so, che è sbagliato fare determinate cose.